Perché sa benissimo che sono critica anche nello stesso movimento. Io chiedo soltanto il rispetto delle regole. Poi che sia mio fratello, che sia il Presidente della Repubblica, me può fare un'importa. Anche se è un parlamentare del 5 Stelle, il rispetto delle regole. Solo così trasmettiamo la vera idea 5 Stelle e abbiamo la possibilità di rivoluzionare la nostra politica.